Buongiorno a tutti, sono Claudio Torelli ho 23 anni, sono nata e cresciuta a Capri. Sono una studentessa universitaria e lavoro come impiegata nell'ambito del turismo. Ho deciso di candidarmi perché l'isola non pone più le condizioni per noi giovani di portare avanti un percorso di studi o per vedere realizzato un proprio progetto e molti di questi sono costretti a partire, provocando una perdita di risorse per l'isola. Per questo ho colto con serietà ed entusiasmo l'opportunità di poter dare un contributo concreto.